Criticità maggiori in aree puntuali sparse tra il Feltrino, la periferia di Belluno, Ponte nelle Alpi e l'Alpago e lavori di manutenzione straordinaria fermi per evitare dispersione d'acqua. Nell'attuale scenario di carenza idrica BIM GSP sta cercando attraverso monitoraggi e rifornimenti di bilanciare le forniture idriche per evitare la crisi vera e propria. Il bilanciamento sta avvenendo attraverso temporanee chiusure di alcune tratte di acquedotto per permettere il pompaggio nelle vasche dove c'è più difficoltà, dove c'è più carenza di acqua. Se non riusciamo con questo andiamo con le botti, con le botti nostre, con le botti dei vigili del fuoco e riempiamo le vasche. I temporali e queste piccole dosi di acqua non consentono certo di risanare la situazione. Il trend è un trend in discesa libera, quindi l'acqua sta calando a vista d'occhio e andiamo verso un periodo in cui ci sarà un maggiore flusso di utenti in tutta la provincia perché il grosso del turismo arriverà da fine luglio a questi giorni fino a tutto il mese di agosto. Se la siccità continuerà cercheremo comunque di attuare e continuare con questa aumentando eventualmente le chiusure notturne che per adesso cerchiamo di limitare dalle 10 alle 6 di mattina in modo che le attività possano comunque avere tutto il tempo di finire i loro orari, però se dovesse peggiorare dovremo continuare anche in zone più ampie. È corretto pensare che con abitudini di consumo un po' più parche, diciamo così, in situazioni come queste si guadagni qualche giorno, cioè ci sia per qualche giorno in più più acqua a disposizione, cioè che l'emergenza inizi un po' più tardi. Sì, sicuramente il comportamento degli utenti è importantissimo in questa fase, cioè capire che l'acqua è un bene importante, che se manca è veramente grave, ci consente di pensare sempre in ogni momento di utilizzo, che sia per la doccia, che sia per qualsiasi altro utilizzo che si fa in casa, di non lasciare sempre il rubinetto aperto ma di chiuderlo quando non viene usata l'acqua. Direi che sarà un comportamento che dovremo assimilare come cittadini sempre di più nei prossimi anni e questo aiuterà sicuramente.